Seldon, non ho visto il tuo regalo. Questo perché non glielo ho comprato? Perché no? Non chiederglielo. L'intera istituzione dello scambio di regali non ha alcun senso. Troppo tardi? Lettiamo che io esca e spenda 50 dollari per un tuo regalo. Sarebbe un'attività laboriosa perché dovrei immaginare cosa ti serve. Mentre tu sai già cosa ti serve, potrai semplificare la cosa dandoti 50 dollari direttamente e tu potresti darmi nei 50 al mio compleanno e così via finché uno di noi morirà lasciando l'altro più ricco di 50 dollari. Quindi ti domando, ne vale la pena? Io te l'avevo detto. Beh, Seldon, sei un suo amico e gli amici si scambiano dei regali. Accetto la premessa ma rispingo la conclusione. Ho un'idea. Prova a dirgli che è una convenzione sociale non opzionale. Cosa? Tu fallo e basta. Seldon, è una convenzione sociale non opzionale. Oh, allora va bene. Ciao. Grazie a tutti